Oggi è giornata di festa, si festeggia il lavoro nelle sue varie forme, dal lavoro dipendente, importante, ma altrettanto importante il lavoro in impresa da parte di imprenditori, in cui sono stati ribaditi i valori del sacrificio, dell'impegno, del saper fare manuale. Un percorso di pari dignità che devono affrontare anche i giovani e nuove generazioni nella formazione, nel poter guardare al futuro di lavori innovativi, lavori diversi, ma che avranno sicuramente un carattere tradizionale. La provincia è impegnata nel cercare di dar soluzioni diverse rispetto ai problemi che oggi si pongono, problemi che hanno a che fare anche con la conciliazione vita privata-lavoro e situazioni diverse che incontrano anche il cambio generazionale oltre che di genere. È un importante percorso in cui la provincia è impegnata e cercherà di dare il proprio contributo per migliorare le condizioni di lavoro, nell'ambiente di lavoro, nella salute e soprattutto nella prospettiva anche del dopo lavoro.